Francesco D'Angelo, siamo quasi a due anni dalla tragedia dell'hotel Rigopiano, ancora vivo il ricordo di tuo fratello, ma comunque si va avanti per capire la verità e si è scoperto che Gabriele comunque dalla sua esperienza di militare avesse già avuto e mandato degli allarmi per lo stato di emergenza all'hotel Rigopiano. Sì, come l'esperienza di vita che ha fatto lui sotto l'esercito e poi soprattutto la formazione che ha avuto all'interno della Croce Rossa, che c'è stato 16 anni, è stato due volte all'Aquila per il terremoto, quindi la sua esperienza gli ha fatto capire che sta succedendo qualcosa, infatti si era subito allarmato per richiedere i primi soccorsi per andare su Rigopiano, ma purtroppo non sono stati ascoltati, lui già aveva capito di quello che sta succedendo, della paura soprattutto che lui ha ricevuto attraverso i colleghi e gli ospiti. Ecco lui già nel 2015 aveva avuto un'esperienza simile. Nel 2015 purtroppo ci rimase bloccato la sposa di Gabriele, Giulia Miani, questo è stato anche deposto dai carabinieri da parte sua e non ci scordiamo che nel 2012, anche se qualcuno non se lo ricorda, ma l'albergo è rimasto bloccato anche nel 2012. Rispondo anche a Di Marco del suo grande operato, della sua grande emergenza, neve il 2015, Rigopiano non è stata neanche calcolata, nemmeno dici ottivo Rigopiano, no, non è stata neanche calcolata Rigopiano, quindi questa è la seconda volta che il territorio vestino viene abbandonato sia dalla provincia, sia dalla regione, sia da tutti.